Ho fatto un posto su Facebook, l'ho fatto sabato sera, dicendo che la partita era persa e che c'era la sconfitta dei modelli educativi, ma più precisamente io dicevo che la sconfitta dei modelli educativi determina la sconfitta della partita. In buona sostanza ero rimasto colpito e sono rimasto colpito dal fatto che in giro ho trovato ben oltre gli orari imposti dalle norme, ho trovato moltissimi giovani, moltissimi adolescenti, la maggior parte senza mascherine. Per cui io mi sono ricordato, io vecchio non sono, ma mi sono ricordato che mai io ai miei tempi, a quelle tra età, sarei potuto andare in giro senza dover dare conto ai miei genitori. Quindi mi è perso chiaro che al di là delle responsabilità dei ragazzi che erano in giro, c'era una responsabilità di chi questi ragazzi li lasciava andare in giro e quindi io mi riferivo ai genitori. Non capire che occorre esercitare un giusto controllo nei confronti dei propri figli significa abdicare al proprio ruolo con tutte le conseguenze che ciò comporti, in particolare per quanto riguarda l'emergenza Covid. La degenerazione che non va bene, vedere frotte di ragazzi in giro senza mascherine. Io dico siete in giro, ma non avere la mascherina, che senso ha non avere la mascherina? Finisce per essere addirittura un vezzo, finisce per essere un segno distintivo di forza, di qualcosa, di bravura. Non avere questa mascherina e mi rendo anche conto che noi possiamo spiegarglielo, possiamo dire, possiamo fare, ci possono essere tutte le norme di questo tipo, ma non deve venire un filosofo del diritto per spiegarci che la norma si fonda sulla consapevolezza della sua osservanza. Se non c'è questa consapevolezza non c'è nulla da fare.